potranno godere già dei benefici del superammortamento, un incentivo che dura quattro anni. Peraltro faccio notare che si è scelto uno strumento automatico e neutrale che offre un beneficio pressoché immediato. In merito al monitoraggio delle misure che verranno introdotte dalla legge di stabilità 2016, si evidenzia che per la misura in materia di credito d'imposta riferibile agli investimenti al Sud, il monitoraggio sarà effettuato controllando mensilmente la fruizione del credito stesso in compensazione degli altri tributi mediante il modello di versamento F24. Vorrei concludere da parte mia del Governo manifestando l'apprezzamento e gratitudine per il lavoro effettuato in Parlamento e lo spirito di collaborazione che ha consentito di migliorare il disegno di legge con interventi coerenti con l'impianto complessivo. Ringrazio il Ministro. Onorevole Pagano ha facoltà di rispondere, di replicare per due minuti. Io ringrazio il Ministro Paduan perché di fatto le misure che ha citato sono esattamente quelle della mia interrogazione e che ci ha visto noi del nuovo centro destra e di area popolare protagonisti affinché venissero realizzate. Però veda, Ministro, il problema serio è che ci vogliono anche operazioni coraggiose, strategiche. Lei dice giustamente stiamo lavorando per investimenti nel privato, ma tutto questo non è bastevole. Le esperienze a livello mondiale dicono che se non c'è il sogno, se non c'è la capacità di realizzare operazioni strategiche, tutto questo viene meno. E di queste ore, è proprio una nota del Ministro Franceschini dal turismo, che dice che i flussi turistici sono aumentati a Napoli e attribuisce il merito esclusivamente al fatto che la linea, la rete ferroviaria dell'alta velocità, oltre che l'autostrada, nelle sue qualità migliori, arriva a fine a Napoli. Lei comprenderà che per analogia, se succede qualche cosa, non succede qualche cosa di analogo in Sicilia, in Calabria, in Basilicata e in Puglia, nonostante la straordinaria momento che quest'ultima regione sta vivendo, il motivo è legato alle infrastrutture. I progetti strategici mancano, manca per esempio il fatto di avere un hub ferroviario a Fiumicino che possa consentire, dopo che i voli intercontinentali sono arrivati, possano muoversi in ferrovia verso nord e verso sud. Manca il ponte sullo stretto, che è un vero progetto che è oggi concreto, soltanto l'ideologia più biega, non puoi immaginare che un ponticello di tre chilometri possa diventare un ostacolo che altrove ovviamente non è più tale. Manca una rete ferroviaria a alte velocità sulla parte adriatica. Lei, l'ho appena detto, tre sogni che tutto sommato stiamo parlando di cose inovvie e normali. Mi pare di poter dire che su queste basi noi dobbiamo assolutamente lavorare. È chiaro che il sud è una risorsa, solo se la riempiremo di contenuti noi avremo un aumento del PIL per tutto il Paese. La posizione strategica ce l'ha regalata il buon Dio, non ce l'ha data nessuno. È evidente che lì è pronta per cogliere questa opportunità che finora, dal dopoguerra oggi, purtroppo non è stata mai realizzata. E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà il termine della riunione delle conferenze dei presidenti di gruppo già convocata per le ore 17. La seduta è su spese. Grazie. 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 Grazie.